il prodotto finale dell'esportazione sarà un file video in formato mp4 a questo punto una volta creato il video posso rielaborarlo inserendo musica e transizioni utilizzando un programma di video editing dal più semplice movie maker a filmora ad adobe per la registrazione è possibile utilizzare il microfono del computer soprattutto se questo è portatile nel caso di pc desktop occorre dotarsi di un microfono usb esterno che va inserito nell'apposita uscita usb come una qualsiasi periferica esterna la qualità dell'audio dipenderà ovviamente dalla qualità del microfono